La signora Larisa si svegliò molto presto e, guardando dalla finestra, osservava le sagome appena delineate degli alberi che passavano nella nebbia dell'alba. Sentiva come la stanchezza si diffondesse nel suo corpo, la gioia riempisse la sua anima e la pigrizia. Il movimento del treno la rilassava, il rumore delle ruote la cullava, non aveva voglia di alzarsi, ma solo di restare sdraiata e guardare. Guardare fuori dalla finestra. Ecco l'alba. Il sole sorgeva, i suoi raggi apparivano e sparivano dietro agli alberi, illuminando l'oro delle foglie e rallegrando la natura. Il sole non conosce la pigrizia e lavora tutto il giorno, senza lamentarsi di stanchezza, di mancanza di tempo o di altre mille ragioni, così tipiche degli esseri umani. Stava finendo il suo viaggio di dieci giorni nella capitale. Da capitale erano partite in quattro, tutte donne, e avevano rapidamente trovato un linguaggio comune. Emersevano subito anche argomenti comuni di conversazione, principalmente sull'educazione dei figli. Ma lungo la strada, una dopo l'altra se ne erano andate, e la signora Larisa era rimasta sola. Tra poco, in pochi minuti, sarebbe arrivata la sua stazione natale, che ora sarebbe passata, avendo recentemente lasciato quella piccola città provinciale per un'altra più grande e bella. La signora Larisa era nata e aveva studiato a scuola qui. Da qui era partita per la capitale, dove aveva terminato l'università, e poi si era trasferita nel suo centro regionale per lavorare. Lì si era sposata, aveva avuto due figlie. Ora entrambe erano sposate. Una viveva nella capitale. Lei aveva vissuto lì tutti questi dieci giorni, l'altra in un'altra parte del paese con il marito. La signora Larisa non aveva ancora nipoti. Dopo la morte del marito, aveva vissuto qui, in questa piccola città provinciale, fino a quando era viva sua madre. Ora era lei la più anziana della sua famiglia. Era tornata al suo appartamento e si stava riabituando alla vita cittadina. Quando era partita per la capitale, avevano attraversato la sua stazione di notte. Ma ora, di primo mattino, si vedeva già la grande fabbrica che aveva resistito a tempi difficili e che continuava a funzionare. E in quella direzione c'era un meraviglioso parco, dove aveva giocato da bambina Larisa, e poi anche i suoi figli. Guardava con tristezza le case che passavano e i rari passanti. Poi ci fu una fermata di tre minuti, dove i passeggeri scendevano solamente. Ma hanno ancora tre ore di viaggio al centro regionale, quindi qui preferivano prendere il bus per raggiungere la regione. E il rumore delle ruote ricominciava. Immersa nei ricordi, Larisa non si accorse quando il treno si fermò alla successiva stazione. Un giovane dal compartimento accanto uscì a fumare, mentre lei guardava fuori dalla finestra, decidendo di vedere come erano vestite le persone. Forse sarebbe stato necessario tirare fuori dal valigia una giacca. Pareva che si fosse raffreddato fuori, a giudicare da tutto. Lei vide come il ragazzo tirava rapidamente alcune boccate di fila e gettava il mozzicone nel cestino. Larisa capì che il treno stava per partire. In quel momento, una donna con una bambina uscì correndo dall'edificio della stazione e si diresse verso il ragazzo. Lui prese in braccio la bambina e sembrava salisse sul treno. Dopo un minuto, entrò nel suo scompartimento. Ecco tua nipote. Lui teneva per mano una bambina di circa due anni e la spingeva verso la signora Larisa. Nipote? Io non ho ancora nipoti. Probabilmente vi siete sbagliati. Vi ho visto sul marciapiede e anche sua madre. Non conosco quella donna. Nel frattempo, la bambina iniziò a piangere in silenzio. Voglio la mamma. Forse avete confuso il posto o il vagone. No, lei ha detto molto chiaramente. Terzo scompartimento, terzo posto. Andiamo dal controllore. Altrimenti ci accuseranno di aver rubato un bambino. Camminarono insieme alla bambina che piangeva. Dopo aver spiegato tutto, volevano lasciarle la bambina, ma lei si oppose. Avete fatto voi il pasticcio, gestitelo voi, ora vado a segnalarlo al capotreno. Ma avete visto e sentito tutto, come ha gridato il numero dello scompartimento e il posto. Ho visto tutto. Posso confermarlo, ma non mi occuperò di lei. Ho del lavoro. Aspettate il capotreno. Tornarono nello scompartimento. La bambina sedeva in silenzio. Evidentemente non era ancora in grado di parlare bene. Facciamo conoscenza, disse la signora Larisa presentandosi. E io sono Antonio. E tu, piccolina, come ti chiami? Si rivolse alla bambina. Lei rispose subito. Vera. Vera, quindi. E la bambina annuiattivamente con la testa. Poco dopo, il capotreno entrò da loro. Bene, dove sono qui i rapitori di bambini? Come potevo immaginare che tutto questo sarebbe successo, rispose sommessamente Antonio. Non ti preoccupare così tanto. L'hai fatto davanti a testimoni. Sì, i vostri due conduttori hanno visto e sentito tutto il discorso. E anche la signora Larisa ha visto. Sì, ho visto. Ecco, è uscito a fumare, rise il capotreno. Sapete, il vostro uscire a fumare mi ha ricordato un vecchio film. Anche la signora Larisa rise. Ricordo, ricordo, Antonio, per non essere troppo triste, devi guardarlo. Ma non ho buone notizie, continuò il capotreno. In nessuno dei vagoni c'è una nonna che aspettava una nipote. Abbiamo informato la polizia della linea regionale e vi aspetteranno lì. E se ne andò. Antonio, vai a prendere dell'acqua bollente. Faremo del caffè per noi e del tè per la piccola. Dobbiamo tirar fuori le scorte della capitale. E lei apparecchiò rapidamente il tavolo. La bambina, vedendo i dolci e i biscotti, si animò. Ma la signora Larisa preparò prima tutti dei panini con salame e formaggio. Antonio portò dei bicchieri con acqua bollente. Poi corse al suo scompartimento per prendere alcune cose. Consegnò la biancheria e si sedette accanto alla bambina. Lei si girò verso di lui e disse coraggiosamente, devo fare pipì. E iniziò a tirare il ragazzo fuori dallo scompartimento. Antonio esclamò capito e la portò al bagno. Aiutatemi, non ce la faccio da solo. La signora Larisa si affrettò dietro di loro. Con grande fatica, ma riuscirono a risolvere il problema, tenendo in braccio Vera. La bambina si rallegrò e, tornati nello scompartimento, iniziarono a pranzare. I panini furono un successo. Si vede che i nervi non sono di ferro e richiedono di essere ristorati con le cornie. Commentò Antonio il suo appetito, ma gli altri non erano da meno. Poi ci fu il tè e il caffè. I dolci e i biscotti andarono quasi tutti a Vera. Dopo lo spuntino, Antonio chiese a Vera. Come si chiama tua madre? Poglia, gli adulti rifletterono. Zoya, regnò il silenzio. Poina, suggeri la bambina, guardandoli perplessa. Paolina, infine intui la signora Larisa. La bambina annui con la testa e disse. E tuo padre? Chiese di nuovo Antonio. Ma la bambina tacque, poi rivelò. Baba Dalia. Allora entrambi esclamarono. Daria, Vera annui felice. Tu? Antonio? E dove è mamma? La bambina lo disse all'improvviso con chiarezza. Arriverà presto, ma poi videro che il treno stava già attraversando la città. Si prepararono rapidamente e uscirono nel corridoio. Nel vagone c'erano solo altre quattro persone. Sulla piattaforma furono accolti da due poliziotti che li portarono al distaccamento di polizia della stazione. Dopo aver raccontato l'accaduto, Antonio e la signora Larisa attesero la reazione dei funzionari di polizia. Furono presi i loro passaporti e dissero di aspettare. Uscirono nel corridoio e si sedettero su una panchina. Dopo circa un'ora, cominciarono a preoccuparsi. Il tempo avanzava verso sera. Era ora di tornare a casa. Infine furono invitati in un ufficio. La bambina dormiva già tra le braccia di Antonio. Avevano trovato sua madre. Era esausta, dopo aver cercato la figlia che era uscita a passeggio con la nonna e all'improvviso era scomparsa. Poi era andata alla polizia. Le avevano detto che era nel capoluogo. Non poteva arrivare oggi. Non ci sarebbero stati più treni, né autobus. Avrebbero dovuto lasciare la bambina con un addetto di turno. Ma che dice? Perché spaventare ancora di più la bambina? Ormai si è abituata a noi. La porterò a casa mia. Vivo a dieci minuti a piedi dalla stazione. Nel mio passaporto c'è il mio indirizzo. E anche il mio. Tra l'altro sono quasi un vostro collega. Lavoro nel servizio cinofilo del Ministero dell'Interno. Bene. Antonio ci aiuterà. Vi porteremo noi. Non preoccupatevi. Lasciate solo i numeri di telefono per rimanere in contatto. Dopo quindici minuti, la signora Larisa era già davanti alla porta del suo appartamento. Antonio e il poliziotto rimasero sul pianerottolo, mentre lei e Vera entrarono. E tu? Chiese al poliziotto Antonio. Ed è vero. La madre di Vera arriverà, e tu non ci sarai. Magari sarai necessario. Quindi passerai la notte da me. Il poliziotto se ne andò, e entrambi sospirarono sollevati. Vera, seduta sul divano, già annuiva dal sonno. La padrona di casa la prese in braccio e la portò in bagno, dove aveva già preparato un asciugamano pulito e una vecchia maglietta della figlia. Dopo aver fatto il bagno alla bambina, le mise la maglietta, la avvolse nell'asciugamano e la consegnò ad Antonio. Poi sistemò il proprio letto e vi adagiò la bambina, decidendo che c'era abbastanza spazio sul letto per entrambe. Dopo aver messo a letto la bambina, la padrona di casa diede un asciugamano ad Antonio, lo mandò in bagno e gli preparò il letto sul divano. Quando si coricò, la signora Larisa uscì dalla cucina e disse, sai, Antonio, ho due generi, ma verso di te ho un sentimento completamente diverso, come se fossi mio figlio. Strano, vero? Antonio, imbarazzato, rispose, ho perso mamma e papà quando ero ancora bambino. Ho vissuto con mia nonna e i tutori, la sorella di mia madre e suo marito. Loro hanno sostituito i miei genitori, che furono uccisi da un autista ubriaco. Entrambi. Si schiantò contro una fermata dell'autobus. Li morì anche una donna con suo figlio. Mio Dio, che tragedia! Sai! Signora Larisa, quella donna in stazione aveva degli occhi folli. Mi sembrava che se non avessi preso la bambina, avrebbe potuto gettarla sotto il treno. E la bambina, hai visto, la abbracciava per il collo. Evidentemente la conosceva. Ci penso ancora. Non spaventarmi, altrimenti non dormirò. Buonanotte. Ma la padrona di casa dormì profondamente. Si svegliò al suono delle risate infantili. Inizialmente la signora Larisa non capì da dove provenissero, dato che vive da sola. Ma si ricordò rapidamente degli strani eventi del giorno precedente e, indossato un accappatoio, andò in cucina. Li Antonio stava già facendo rumore con il bollitore e le tazze, mentre Vera sedeva a tavola e rideva a crepapelle. Buongiorno, signora Larisa, disse Antonio sorridente. E Vera aggiunse, buongiorno, buongiorno, e batte le mani felicemente. Ho visto un negozio qui vicino, quindi ci andrò ora. Dobbiamo preparare la colazione. Uscì dalla cucina, ma poi ritornò improvvisamente e, sorridendo, disse, non comprerò i fiammiferi, non si sa mai cosa possa succedere. Corse via, e la signora Larisa macinò il caffè e preparò il tè. Poi le venne in mente la meravigliosa commedia alla ricerca dei fiammiferi. Iniziò a ricordare anche altre amate commedie di quel tempo lontano. E poi nella sua memoria emersero immagini lontane del passato, quando lei e Alessandro, di cui era innamoratissima ai tempi della scuola, sedevano a casa sua fingendo di prepararsi per le lezioni, abbassando il volume al minimo per non farsi sentire dalla nonna. Guardavano e ascoltavano con trasporto il film Non aver paura, sono con te. E poi in classe tutti discutevano a voce alta su quale genere appartenesse il film. I ragazzi lo consideravano un film d'azione, mentre le ragazze una sopopera. Ma sua nonna affermava con decisione che era una commedia musicale. Dobbiamo assolutamente rivedere questi film insieme ad Antonio. Penso che gli piaceranno. Era stranamente sicura che non sarebbe stata l'ultima volta che si vedevano. Un quarto d'ora dopo, loro tre erano già seduti a tavola e mangiavano con appetito uova strapazzate con salsiccia e deliziosi brioche fresche. Improvvisamente il telefono della signora Larisa squillò. Buongiorno, sono Paolina, la madre di Vera. Sono già arrivata e vi aspetto all'ingresso. Sentì una piacevole voce femminile. Allora salite da noi. La signora Larisa aprì la porta e vide una giovane donna attraente con uno sguardo ansioso e una torta in mano. Entra, sei arrivata al momento giusto, disse ospitalmente la padrona di casa. Passarono in cucina. Antonio era già al fornello e stava preparando la quarta porzione di uova. E Paolina si precipitò ad abbracciare Vera, poi disse che alla polizia le avevano detto di sbrigarsi. Bene, sedetevi. Ora facciamo colazione e poi andiamo, disse Antonio. No, grazie, non voglio disturbare. E ora non è il momento di mangiare, parlava con ansia. No, Paolina, dovrai mangiare, perché ho già preparato, disse Antonio, osservandola con piacere. Ma come sai come mi chiamo? Esclamò sorpresa Paolina. Beh, conosciamo anche la nonna Daria e la fonte delle informazioni. Eccola qui, davanti a te. Sta giocando con la colazione. E tutti videro come Vera metteva con interesse piccoli biscotti rotondi nel suo tè. Quante volte te l'ho detto, non fare pasticci, disse severamente Paolina alla figlia, ma non resistette e la abbracciò di nuovo forte. E ora loro quattro salivano le alte scale della stazione. Come ha potuto perdere la bambina? Così calma, premurosa, razionale. Ha portato a Vera vestiti puliti, una giacca più calda, scarpe chiuse, dato che piove da due giorni. E non è venuta a mani vuote. Ha portato una torta. Ora la mangeremo tutti insieme a pranzo, pensò la signora Larisa, entrando nello stesso ufficio dove erano stati il giorno prima. Ecco, hai incontrato i tuoi salvatori, disse sorridente il padrone dell'ufficio. Perché salvatori? Chiese sorpresa Paolina. Perché quella donna che ha dato tua figlia ad Antonio, i testimoni l'hanno riconosciuta come signora Antonioina, l'attuale moglie del tuo ex marito, che era in stato di ebbrezza e chissà cosa avrebbe potuto fare alla ragazza. Proprio come pensavo, sussurrò Paolina, e iniziò a piangere. Vera si uni subito a lei e, saltando giù dalla sedia, le saltò in grembo e la abbracciò intorno al collo. Non c'è bisogno di piangere ora. Tutto è finito bene. Ora dobbiamo chiamare subito la nonna Daria. Deve essere impazzita di preoccupazione a casa, disse saggiamente Antonio. Oh, mi ero completamente dimenticata, disse preoccupata Paolina. Posso uscire a chiamare? Vai, vai. Io finisco qui con i documenti, poi vi farò firmare tutto. Sapete, sono contento che la mia giornata lavorativa sia iniziata con voi. È così piacevole vedere persone di fronte a me che non trasmettono negatività, ma condividono la gioia del mattino, proprio come me. Le buone notizie hanno sempre un effetto positivo sul mio sistema nervoso. Risse l'investigatore, finalmente terminando tutte le formalità. Chiese a tutti di firmare, e dopo essersi calorosamente congedati, se ne andarono. Mi piacerebbe tanto portare Vera al mio caffè gelateria preferito sul lungomare, disse sognante Paolina. Ho studiato qui, e dopo gli studi sono tornata a casa. Difficilmente avrei mai comprato un appartamento in città. Certo, con il mio ex marito vivevamo in un appartamento. Non siamo riusciti a comprarne uno nostro, ma forse è meglio così, altrimenti avremmo dovuto dividerlo. Nella sua voce si percepivano tristezza e delusione. Antonio, vai con loro, hai detto che devi lavorare solo domani, e tornerete per pranzo. Io nel frattempo preparerò tutto. E loro, tenendo Vera per mano, si diressero allegri verso il lungomare. I giovani camminavano e non vedevano che, dopo aver fatto alcuni passi, la signora Larisa si girò e li guardò andare via. No, non può essere un caso. Probabilmente era destino che si incontrassero in questo modo. Dio voglia che io abbia ragione. È proprio il tipo di moglie che serve ad Antonio, pensò, come se stesse parlando di suo figlio. Sulla via del ritorno a casa, la signora Larisa entrò in un negozio e comprò alcuni alimenti. Poi a casa iniziò a cucinare il pranzo con entusiasmo. Poi si ricordò improvvisamente di non aver chiamato le sue ragazze per dir loro che era arrivata sana e salva. La signora Larisa chiamò prima la figlia maggiore e poi la più giovane. Non menzionò l'incidente con Vera. E tornò in cucina. È da tanto che non provavo tanto piacere a cucinare. È così bello impegnarsi in cucina sapendo che porterà piacere a qualcuno. Pensò ad Antonio e per qualche motivo ebbe la certezza che lui avrebbe continuato a farle visita, a bere il caffè al mattino e a tenere conversazioni interessanti sulle ironie del destino. Proprio quella mattina, lui le aveva raccontato con entusiasmo la sua interpretazione del conflitto tra Paolina e la moglie del suo ex marito. Questa donna, questa miserabile donna, sentiva che proprio Vera era la pietra d'inciampo nella sua lotta per conquistare il marito. Ma di Paolina non aveva tenuto conto. Considerandosi una affascinante bellezza. Ma né Vera né Paolina avevano nulla a che fare con la sua felicità. È l'uomo a decidere. Dopo essersi separato da Paolina, ha già fatto la sua scelta, rifiutandole. E difficilmente cambierà idea. Ma allo stesso modo agirà con questa donna, se improvvisamente non sarà di suo gradimento. Ma stavolta lei gli è piaciuta, dimostrandogli il suo amore. Anche se in modo vile e meschino, questo gli va bene. Dopotutto, sembra che, appena sposato, si consideri irresistibile e pretenda prove di ciò. E questa prova è il suo vile gesto nei confronti della sua stessa piccola figlia. Dal punto di vista dell'uomo, potrebbe anche avere ragione, pensò la signora Larisa alle parole di Antonio. Ma Paolina non ne sarà di certo sollevata. Antonio e Paolina tornarono dalla passeggiata in tempo. La signora Larisa aveva già preparato il pranzo. Ma la piccola Vera era così stanca che non riuscì nemmeno ad aspettarlo. addormentandosi istantaneamente sul divano. E loro tre si sedettero nella sua accogliente cucina, mentre Paolina condivideva con loro delle informazioni per riflettere, come lei disse. L'investigatore che aveva parlato con lei quella mattina aveva fatto capire a Paolina che la donna che aveva rapito sua figlia aveva la reale possibilità di ricevere una condanna non, inferiore a cinque anni. Non so proprio cosa fare. Ha ragione. Il rapimento rimarrà un rapimento. E ho avuto fortuna che la mia vera sia finita proprio da voi. Ma se le cose fossero andate diversamente, sarebbe potuta succedere una tragedia. Ma la nostra è una cittadina piccola. Questa Antonioina disorientata è stata condannata da tutti. Ma non c'è garanzia che la gente non mi condanni, se per la mia denuncia la metteranno in prigione. E vivere con questo è difficile. Abbiamo avuto un caso recentemente. Hanno violentato una ragazza. La compassione per lei era enorme. Così tanta. E quella ragazza, che aveva solo 14 anni, tranquilla, modesta, di buona famiglia e brava a scuola. Ma quando i suoi genitori hanno denunciato due ragazzi più grandi, tutti hanno iniziato a incolparla. Difendendo quei mostri. Così, alla fine, tutta la famiglia ha dovuto lasciare la città. Ma tu perché dovresti essere accusata? Sei una madre che si prende cura del proprio figlio. Chi, se non tu, dovrebbe proteggerlo? Esclamò indignata la signora Larisa. Ecco, cominceranno ad accusare che non hai difeso così bene Vera, che non l'hai protetta. Io non girerò per la città a spiegare che ero al lavoro in quel momento, mentre mia madre passeggiava con Vera. Ma l'impunità genera, ha iniziato Antonio. Anche tu potresti andartene da lì. No, questa non è una soluzione. Ho lì i miei genitori, mia nonna, e qui non c'è nessuno. Paolina, se ne avrai bisogno, puoi sempre venire da me. Sarò sempre felice di ospitarti, te e Vera. Ma la questione della punizione la deciderete voi in famiglia. A noi è facile parlare da lontano, ma tu, Paolina, devi vivere lì. E da quel momento è sorta una sorta di famiglia adottiva per la signora Larisa. Antonio, Paolina e Vera. Scambiatisi i numeri di telefono, si chiamavano spesso. E persino Vera parlava a lungo con la nuova nonna Larisa, esprimendo parole non sempre comprensibili solo a lei. Antonio veniva spesso, talvolta addirittura pernottava. Poiché più di una volta alla signora Larisa capitavano varie rotture, che lui risolveva. E di recente l'aveva presentata ai suoi parenti. Sua nonna compiva gli anni e gli avevano ordinato di venire con una ragazza. Ha deciso di scherzare. E anche di presentare i parenti a signora Larisa, avvertendola in anticipo che lo aspettavano come sposo. E riguardo a come ci siamo incontrati, lo sanno? Sì, ho raccontato loro di te, signora Larisa, e di Vera, e di Paolina. La signora Larisa aveva già scelto la strategia per incontrare i suoi parenti, che tanto insistevano per farlo sposare. E quando è arrivata da loro, dopo essersi conosciuti, ha subito detto che, secondo lei, era come se lei fosse il ponte tra Antonio e Paolina. Capisci, in quel momento la situazione era così assurda che non pensavamo a nient'altro che alla bambina. Ma dopo ho riflettuto a lungo su questo e sono arrivata alla conclusione che evidentemente era destino incontrarci tutti e tre. Ma ancora non capisco quale ruolo ho giocato in questa storia misteriosa. Va bene se Antonio e Paolina si fossero incontrati, ma io, perché? Una cosa la so con certezza, che sono perfetti l'uno per l'altra. Ragionevoli, gentili, si capiscono al volo. Non sono una casa mentera, ma vorrei davvero che si sposassero. Forse vi disturba che Paolina abbia un figlio? Ma vi assicuro che è stata vera a farli avvicinare. Entrambi sentono ora la responsabilità nei suoi confronti. Lei come madre, e lui come persona che ha salvato la bambina da un pericolo imminente. Durante il suo monologo è arrivato un altro ospite, ma la signora Larisa non lo ha visto. Era di spalle alla porta. Ma nonna ha sorriso appena lo ha visto. La signora Larisa capì che era ora di concludere e disse che era stata felice di incontrare i parenti di Antonio, specialmente la festeggiata, e le augurò salute, amore e attenzione da parte di tutti i suoi cari. Si sedette e un uomo si avvicinò alla festeggiata seduta al capo del tavolo. La baciò e disse, cara festeggiata, in qualità di tuo padrino, dichiaro che ti amo molto e ti auguro un'energia inesauribile e un senso dell'umorismo inesauribile. Allora non c'è bisogno di preoccuparsi della salute. In occasione del tuo compleanno, signora Valentina, ti invito come ospite d'onore alla mia mostra personale. Sarò felice di vedere anche tutti gli altri. Si voltò verso coloro seduti al tavolo. Improvvisamente il suo sguardo si fermò sulla signora Larisa, che sedeva e non riusciva a capire cosa la disturbasse nel discorso dell'uomo sconosciuto, che chiaramente mostrava segni di una lieve balbuzie. E solo quando lo vide, capì che era Alessandro, il suo primo amore, non corrisposto, come lei credeva. Larisa, sei cambiata poco, disse. Veramente? Ti avrei riconosciuta anche dopo cento anni, parola d'onore. Si avvicinò a lei, la abbracciò, poi le passò un dito sulla guancia e disse, ti dipingerò. Ricordi? Ti ho promesso una volta. Ricordo, Alessandro, disse piano, vedendo con quanta attenzione tutti la guardavano. Ricordo, ripeté quasi sussurrando. Per il resto della serata non si allontanarono l'uno dall'altro. Ballarono, conversarono, come se stessero recuperando gli anni passati. Solo una volta Antonio l'invitò a ballare e disse, ecco la tua partecipazione al malorganizzato rapimento di Vera, svelò lo zio Alessandro, il nipote della nonna e il suo amato nipote. Lei è molto orgogliosa che sia diventato un famoso artista. Sono felice che vi siate incontrati e sono pronto a fare da testimone, perché zio Alessandro non è sposato, è vedovo, ma ha un figlio e un nipote. La signora la risa a Rossi e disse, ti stai prendendo molte responsabilità su di te. Niente di che, cara zietta, disse affettuosamente. Tre mesi dopo tutti aiutarono Paolina a traslocare. Dopo aver presentato la richiesta di matrimonio all'ex marito di Paolina, che, sentendo l'imminente punizione, era completamente sprofondato e beveva quasi tutti i giorni. E il suo ex marito cercò di convincere Paolina a ritirare la denuncia, motivando il fatto che alla ragazza non era successo niente di grave, ma Paolina rifiutò. I suoi genitori vendettero la casa della nonna e il loro appartamento, oltre a qualche risparmio. Quindi sono riusciti a comprare una bella grande casa in un soborgo, perché non potevano immaginare la vita senza terra. In questa casa c'è stata una modesta cerimonia di matrimonio per Paolina e Antonio. Non è stato una sorpresa nemmeno il matrimonio della signora Larisa e del signor Alessandro, quando tutti hanno appreso della loro vecchia conoscenza e simpatie scolastiche. Con il matrimonio legale, che hanno segretamente registrato, sono stati congratulati da Antonio, che in qualche modo ha saputo e li ha convinti a celebrare questo evento nel circolo ora molto numeroso dei parenti. Sono venute alla festa anche entrambe le figlie della signora Larisa e il figlio del signor Alessandro, che erano incredibilmente sorpresi dalla decisione dei loro cari, ma hanno accolto questo evento con piena comprensione. Dopotutto, anche per loro è stato un grande vantaggio che i loro parenti non soffrano per la mancanza di attenzione da parte dei figli, ora che sono una famiglia a tutti gli effetti. Il che significa che l'età non è più un ostacolo, non è più un ostacolo, non è più un ostacolo, non è più un ostacolo.